I casting di Amici 18 vanno avanti su Real Time ma ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata del pomeridiano del sabato e lo stesso sito del programma ha pubblicato il nome dei ragazzi che hanno ottenuto, per adesso, un posto nella classe della nuova edizione Ospite della prima puntata Sarai Rama, il vincitore della scorsa edizione, che darà così il suo personale in bocca al lupo ai nuovi concorrenti, cantanti, ballerini e gruppi che da sabato pomeriggio terranno compagnia al pubblico fino alla pausa natalizia Secondo quanto riportato sul sito, sono entrati nel programma per il canto, Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Canero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Elinura, Giordano Angi, Tiamet, Gefeo, Mameli e Sofia Marcattini Per il ballo, invece, sono entrati Giussi Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Matties Chinti e Mogli Giordano Angi e Miguel Chavez hanno già ottenuto il loro banco certo mentre gli altri dovranno ancora conquistarselo . Concorrenti pronti per il gran finale.Mancano pochi giorni al primo pomeriggiano di Amici 18 su Canale 5 Sabato, alle 14,10 prima dell'appuntamento con Verissimo, Maria De Filippi darà ufficialmente il via alla nuova edizione dell'amatissimo Talent con la formazione della nuova classe Chi, però, ha seguito i casting su Real Time, e continua a farlo, sa che tutto è ancora in gioco per i ragazzi che si sono presentati ai provini quest'anno . I casting dei ballerini sono più avanti rispetto a quelli dei cantanti. Siamo arrivati al terzo step, che dà l'accesso diretto alla puntata speciale di sabato nella quale, appunto, sarà formata la nuova classe di amici . Quattro ballerini di hip hop sono già stati scelti per la puntata e, nella puntata in onda oggi, scopriremo quali saranno gli altri danzatori che convinceranno i tre professori . Il via al terzo step per il canto.Se i casting per il ballo stanno giungendo a conclusione, quelli per i cantanti continuano . Ancora non siamo giunti al terzo step che, sicuramente, avrà inizio nella puntata di oggi, 13 novembre, su Real Time . Nel nuovo episodio dedicato ai casting, scopriremo gli ultimi cantanti che riusciranno a superare il secondo step . Rudy Zerbi, Stesh e Alex Britti daranno così il via al terzo ed ultimo step. Intanto c'è già qualche cantante che ha colpito i fan del talent show di Maria De Filippi . Impossibile non citare Alessandro Casino, volto già noto per tanti. C'è chi crede possa essere il nuovo Irama e, quindi, avere il suo stesso percorso nella scuola. . Ma anche altri, come Giordano, hanno positivamente colpito il pubblico dei casting di Amici 18. . . . . . . . .